Un cordiale buonasera gentili ascoltatori dalla Unipol Domus di Cagliari, un cordiale buonasera da Paolo Mastino e da Francesco Reppice che grazie alla collaborazione tecnica di Salvatore Bargio e Fabio Vinci sono pronti a raccontarvi l'ultimo dei posticci per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A Cagliari-Inter, una vittoria all'esordio per i Nerazzurri, un pareggio in casa del Torino per la formazione allenata da Claudio Ranieri c'è il tutto esaurito alla Unipol Domus, c'è una buona rappresentanza, dobbiamo dire anche di tifosi interisti, sparsi un po' per tutta Italia e quindi anche in Sardegna molti quelli che hanno raggiunto il capoluogo della meravigliosa isola Sarda dalla Lombardia quindi da Milano siamo al quarto dicesimo, siamo ancora fermi sullo 0-0 ma l'Inter adesso ha assunto in maniera chiara e netta il dominio della partita prova Danfres ad andare in area di rigore da Turam, sorvolato da questa traiettoria, poi il tentativo con il palo di Lautaro Martinez di sinistro al volo a Radunovic battuto, montante, colpito dal Toro Argentino, prima palla gol per l'Inter non è precisa l'Inter adesso in fase di impostazione, ne approfitta il Cagliaro, perlomeno prova a fare attenzione però Turam ruba il pallone proprio a Sulemana, posizione accanto alla vertice dell'area, a destra arriva la sovrapposizione con il tiro di Danfres ha segnato l'Inter, esattamente al ventunesimo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale al Unipollodomus di Cagliari, è passata in vantaggio l'Inter con Danfres, sovrapposizione sul tocco di Turam che aveva rubato palla in maniera regolare proprio a Sulemana, ha imbucato per l'esterno olandese un piatto destro, angolatissimo, lento ma inesorabile nella sua corsa verso la porta difesa da Radunovic che nulla ha potuto su questo tiro praticamente incrociato da parte dell'olandese l'Inter è in vantaggio per 1-0, siamo al ventiduesimo sì, errore a centrocampo pagato a peso carissimo da parte del Cagliari c'è stato proprio uno scambio tra Zappa e Sulemana, palla che è passata e così l'Inter è riuscita a passare in vantaggio anche per questi errori, soprattutto in quella fase del campo, con l'Inter, con questi giocatori di sicuro non sono errori che si possono commettere Denzel Danfres, giocatore olandese, ha colpito a colpo sicuro un tiro non forte ma sicuramente molto preciso così è riuscito a battere il portiere del Cagliari Boris Radunovic bene, dobbiamo dire anche Tio Gambe che non solo ha rubato palla all'avversario ma è riuscito immediatamente a sfruttare la sovrapposizione del compagno di squadra mettendolo nella possibilità di incrociare il destro che è andato a beffare proprio Radunovic il rinvio di Overt, la partenza, ora di Nandez alle spalle di tutti, nere rigore, Nandez, Nandez, sinistro pallone sull'esterno della rete deviato all'ultimo momento se non andiamo errati da Cialanoglu addirittura che è riuscito a chiudere difensivamente su questa incursione di Nandez difesa centrale, l'Inter scoperchiata dal lancio in verticale della retroguardia rosso-blu per Nandez che è volato via ha colpito in area di rigore con il sinistra non è riuscito tuttavia ad incrociare la traiettoria soprattutto a trovare lo specchio della porta ha trovato la deviazione di Cialanoglu linea Cagliari d'accordo Manuela Collazzo siamo al ventinovesimo minuto nel corso del primo tempo a Cagliari l'Inter in vantaggio sui rosso-blu per 1-0 la rete al ventunesimo di Dumfries nel periodo non collegato però Cagliari vicino al gol del pareggio con U Pavoloso Pavoletti davvero ha fatto un'ottima azione bel colpo di testa ha sfiorato l'incrocio dei pali alla destra del portiere dell'Inter Sommer non è stato fortunato forse è anche un po' arrabbiato forse voleva il calcio d'angolo Pavoletti così non è stato intanto Di Marco triangolazione sulla sinistra paloli in mezzo Lautaro Martínez è solo Lautaro, Lautaro, Lautaro Destro ha raddoppiato l'Inter mezz'ora nel corso del primo tempo il Toro Argentino ha portato a due le reti nerazzurre con un controllo glaciale all'interno dell'area di rigore evitando due avversari scrutando il fiazzamento di Ladunovic e beffandolo con un piatto destro di rara precisione ed efficacia ha portato l'Inter sul 2-0 siamo alla mezz'ora insomma azione pericolosa del Cagliari l'Inter dalla parte opposta la volata di Di Marco il cross in mezzo per Lautaro Martínez che è un campione e lo ha fatto vedere ancora una volta anche sì perché davvero ha perso tempo Lautaro Martínez a controllare la posizione del portiere il Cagliari Radunovic che non era eccezionale devo dire la verità era forse troppo fuori dai pali in questa occasione così Lautaro ha avuto il tempo di controllare e poi alla fine anche di calzare con un piatto precisissimo e portare l'Inter sul 2-0 e soprattutto lui ha già a tre gol in campionato siamo al 31esimo nel corso del primo tempo a Cagliari conduce l'Inter per 2-0 Lereti lo ricordiamo di Danfris e Lautaro Martínez c'è qualcosa da verificare però probabilmente per la posizione in appartenza in volata dalla corsia di sinistra di Di Marco se fosse o meno regolare la scorribanda dell'esterno della formazione di Simone Inzaghi da quel lato del terreno di gioco che lui ara e conferma proprio Fabri che si tratta di gol e quindi Di Marco era in posizione regolare Vastori che si ferma va in profondità Tocca Arnato e c'è ancora di sfonda per Cialanoglu riceve il tocco di ritorno la parte delle tour che va sulla corsia di destra dove si catapulta Caffè Columbia a quadrado all'indietro Cialanoglu destro e pallone che colpisce il palo dopo la deviazione probabilmente di Radunovic intervicinissima al gol del 3-0 proprio con Cialanoglu c'era stata anche una deviazione di Dossena che aveva in qualche modo avvicinato il pallone alla porta ma insomma si è salvato il Cagliari in questa occasione di prima con l'interno Martínez il lancio preciso a sinistra per Lumumbo che può puntare l'avversario entrare nel rigore Lumumbo 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 parte il tiro deviato attenzione secondo palo parte il tiro da pochi passi di Azzina parata miracolosa da parte di Sommer all'altezza del proprio palo alla sinistra è riuscito proprio grazie alla montante a neutralizzare questa conclusione che sembrava assolutamente a colpo sicuro questa volta sbandato anzi il pallone non ha toccato il palo è stato neutralizzato proprio dall'ex portiere del Bayern Monaco insiste il Cagliari in avanti ha avuto di fatto questa palla goal nel secondo tempo nella finale di secondo tempo ma se fosse andato in porta questo pallone crediamo che avremmo assistito a pochi minuti d'accordo quella fine di partita compreso il recupero veramente elettrici mancano pochi secondi alla fine di questa partita una quarantina non ha di più l'Inter ha risolto nel primo tempo la pratica andando a segno al ventunesimo con Danfri sarà doppiato con Lautaro Martínez al ventinovesimo poi è riuscita ad amministrare la sfida anche se le Cagliari in specie della fase finale di questa sfida che si è reso minaccioso con una conclusione di Azi praticamente a colpo sicuro che è stata neutralizzata con una grande reattività a pochi metri dal punto di battuta dal portiere Summer finisce qui la partita della Unipol Domus di Cagliari l'Inter ha battuto il Cagliari per 2 a 0 e in testa la classifica siamo a Verona Milano e Napoli con 6 punti e quindi a punteggio pieno dopo due partite le reti l'abbiamo detto Danfrizz Lautaro Martínez è il primo tempo meno resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Fabio Vinci e Salvatore Vargio per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Paolo Mastino Francesco Repice nel ribadirvi che l'Inter in trasferta a Cagliari ha battuto la squadra di Lennieri per 2 a 0 augura a tutti i radioascoltatori una serena notte